Buongiorno Filippo Diodovic dalla sala operativa di IG di Milano. Mercati azionari in rosso appesantiti anche dai deludenti dati PMI di settembre che hanno mostrato un forte rallentamento della crescita economica dell'eurozona. Il PMI sul settore dei servizi ha infatti toccato i minimi degli ultimi 21 mesi. La fragile ripresa economica porta anche a indebolire la creazione di nuovi posti di lavoro. Tenendo conto delle deboli pressioni inflazionistiche e del crollo del sentiment soprattutto all'interno delle imprese del settore terziario, è molto probabile che la BCE possa intervenire nuovamente con nuovi stimoli monetari per sostenere l'economia. L'euro si è leggermente indebolito rispetto al dollaro scendendo da 1,1220 a 1,12, movimento ancora poco significativo. Solamente il cedimento del supporto a 1,1190, 50% del ritracciamento di Fibonacci dell'ascesa dai bottom del 21 settembre potrebbe portare a una flessione verso i target a 1,1174 e 1,1140. Nel pomeriggio potremmo assistere a una certa volatilità sul valutario sulle dichiarazioni di alcuni membri della Federal Reserve. Con questo è proprio tutto, buon trading!